Siamo quasi ai botti diciamo che è 35 iniziano i botti Ce l'hai in mano! Hai vinto! Le fudegate sono le migliori cattivi! Adesso lo dicevo anch'io quando non giocavo bella! Ho capito che fa schifo con tutte le tappe Obba è una notizia fantastica! Obba ti dice grazie! Ma staccano pure! Lui giocava 400 che ti piace! Non c'è fine! Qualunque cosa lo faccia! Non c'è fine! No, turno 0! 0, 1, 2, vabbè, 1, 2, 3, lo stesso! È il mio ultimo turno! Questa cosa è buona! Ho fatto due alberto! Facciamo un masterpiece! Calcio! Ah ah! Signa, non sono più tanti! Eh, signa, signa! Ti accogli e senza! Le cartuzze sono vastose! Ahimè! Non ho capito! Ma... Ma... Niente di cartuzze! Capitito! Hai tornato! 2, 50, 2, 7, 2, 7, 2, 3... Tutti i 70! Non c'è mai fatto! E chi sto usando? E fu proprio questo! Sono seriamente... Ma un pezzo è un altro! Ma... Può sticcappare? E' il Draco! Triple Mase! Il Draco no! Lui è il Draco! Questo è sicuro! Un po' di... Ma non lo carico! Non lo carico! Non lo carico! Non lo carico! Best internet player! BEM! Non lo carico! Ma che... Ma che... Ma che... Ti faccio il tipo di canzone? Si, si, si! Guarda, è senza scomparire! Non ti possa rifare... Bravo! bravo! Non è vero, non è vero, hai fatto pure contro di me, non è vero, fai schifo, fai schifo, sei contro lei, sono lui, hai evocato quando c'era il mostro sul terreno, hai evocato qualcosa quando c'era la vostra, Vabbè, forse è chiuso. Sono due e cinque, cinque mila cento, sei e cinque, non è senza, non è senza, non è senza.